C'è il gol di più? Ballotelli, però non ha avuto molto spazio perché teneva domina addosso e Prandelli ha tolto l'attaccante a fiamma. Qualche occasione il gol e il gol non è arrivato? Sera qualcosa da cambiare o semplicemente sfortuna? Diciamo che se il gol non è arrivato non è sfortuna. Ebbene giocare in modo diverso perché il gol sarebbe arrivato se avessero attaccato con due punte secondo me. Ciò che vi aveva pochi giorni per il gol che non c'è, 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 non c'è.